A nemmeno sette giorni di distanza siamo tornati qui nel centro commerciale a fianco di via Psella per questionare sui problemi riscontrati da un cittadino che da poco è residente nella zona, problematiche come quella della GRU in uno stato avanzato di arrugginimento, quella del centro commerciale che presenta numerosi negozi vuoti, ma anche quello del Silos che è sempre in una fase di degrado. Questo è anche il problema di un'asfaltatura che potrebbe essere risistemata, problematica che abbiamo riportato al vice sindaco di Montelabate Luca Faroni. Questo centro commerciale è nato male dall'inizio perché i proprietari hanno subito avuto problemi legali soprattutto per la parte del supermercato e quindi non hanno potuto avviare l'attività che è stata ceduta ad una multinazionale tedesca che ha sempre pagato l'affitto fino a quando non è fallita. Ha fallito questa società commerciale che non l'aveva mai aperto, la proprietà è diventata del medio leasing che è rientrata nel fallimento di Banca Marche e quindi a sua volta il fallimento tutto in tribunale. Adesso quando la nuova proprietà che è Ubi Banca riuscirà ad avere la disponibilità dei locali potrà metterli all'asta e quindi poi avere la possibilità di eventualmente trovare qualcuno che sia disponibile ad acquistare e speriamo anche di aprire. Un altro dei problemi di questo centro commerciale è che ha un regolamento che è molto restrittivo e quindi le attività che vogliono aprire spesso si trovano a dover affrontare delle questioni legali prima ancora di dover aprire e quindi gli passa la voglia prima ancora di affrontare altre problematiche per aprire qua. E poi anche c'è il problema degli affitti perché sempre tornando all'area destinata al supermercato abbiamo trovato un imprenditore di Rimini che era disponibile ad aprirci un luogo da ballo però poi dopo con gli affitti che gli venivano chiesti ha preferito aprire a Rimini che pagava molto meno. Invece per quanto riguarda la GRU qual è la situazione? Il privato deve per forza intervenire oppure comunque è libero di fare quello che crede? Il comune che potere ha in questo caso invece? Il privato deve rispettare la normativa che però non è il comune direttamente il responsabile delle normative che sono quelle della sicurezza sul lavoro perché i controlli li fa l'ispettorato. Il comune alcuni anni fa aveva fatto fare delle verifiche su tutte le GRU del comune, alcune che non erano in regola sono state smontate quindi il comune dove può riesce ad intervenire però non direttamente ma solo su indicazione del comune in caso di imminente pericolo o pericolosità altrimenti rispetta poi al privato decidere se ha possibilità di tenerla su se è tutto in regola oppure se lo utilizza e quindi gli serve per i lavori che deve fare. Sono stati tanti commenti che hanno lamentato anche lo stato di degrado della strada che passa anche per il centro di Apsella. Potreste intervenire invece? Su alcuni tratti abbiamo già in previsione di fare degli interventi a breve quindi abbiamo già la disponibilità di alcune decine di migliaia di euro che verranno investite in un tratto all'ingresso del paese e il tratto che è una breve salita che ha diverse buche quello lo sistemeremo nel giro di poco. Invece sul silos qual è il punto? Il silos anche quello rientra in un'area privata quindi poi dopo vanno fatte le opportune verifiche o con una segnalazione o adesso mi interesserò direttamente in comune per verificare come è la situazione che al momento non la so insomma. Vorrei ricordare a tutti i cittadini di Montelabate che è disponibile un'app gratuita che si chiama Comunichiamo con la quale si possono fare delle segnalazioni direttamente al comune per sollevare alcune questioni o anche per indicare alcune problematiche. Il comune viene subito a conoscenza del problema.